Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, sono Faliero. Senta, io una mia ipotesi personale riguardo la Serentina, credo che ci siano delle colpe ben più grandi che vanno al di là dei normali pensieri della gente. Sono convinto che non è un problema di luna o di Ciccicori, credo che ci sia qualcuno più in alto di loro. Ho capito, e che secondo lei chi? Marco diceva. Secondo me è una puttana della Madonna. Ah, ho capito. Pronto? Sì.